Il mio tesoro, il mio tesorino Gavri, siamo su raft, lo sapevi? Eh sì sì, ho notato, ho notato Questa cosa ci fa impazzire perché praticamente siamo qui nel mare che facciamo cose, che facciamo tante, che brutta cosa che ho appena detto Cosa? Hai di nuovo un pescione enorme in mano Gavri Eh lo so Eh beh beh beh, insomma potrebbe essere un piccolo problema questo ma perché inserisci te lo, che schifo te lo sei mangiato tutto No no, ho mangiato un altro pesce Questo lo voglio tenere Infatti tienilo come cimelio perché è il più grande che tu abbia mai catturato In realtà non lo so se è il più grande Boh non lo so, non sappiamo Comunque adesso, oggi, cosa dobbiamo fare? Continuare a raccogliere Eh esatto, continuiamo Continuiamo a raccogliere materiali perché purtroppo questo è uno dei giorni infatti festativici E praticamente dobbiamo cercare altre isole dove praticamente dobbiamo trovare altre cose magiche Tipo, ehm, isole e altre cose che ci possano portare Non dormire E sono andati immediatamente su se no poi dopo ti, ti devo infilzare con questa cosa Va bene, va bene Ok, prendi! Però io avrei E io avrei l'inventario pieno, non posso prendere niente Allora dobbiamo craftare immediatamente una cassa Eh, allora, com'è che si faceva a fare la cassa? Adesso duni Eh, io non lo so come si fanno I costruttori di fiducia Allora, mi servono Hai dei cardini, domanda? Hai dei cardini? I cardini? Sì Oddio, cosa sono? Non so se ce li ho io Eh, allora Mi sa di no Eh, mi sa di no Eh, eh, allora c'è abbiamo C'è, c'è, abbiamo Insomma Un piccolo problema Ah no, sì, ce ne ho tre Ce ne ho tre Ok, allora dammi i cardini che sono quella cosa più grande Insomma, posso fare una cassa grande Così Oh, meno male, meno male Una cassa grande Guardate qua Adesso duni sprende questa cosa Ho creato una mega cassona grassa Adesso Dov'è? Un attimo che devo posizionare Ma come faccio? Allora, la giro praticamente devo girarla in questo modo In questa dire In questa direction E praticamente girandola più così No, perché deve essere perfetta Perché è come se voi aveste Vedi Gabri Porta Oh, che bello Sì, però se tu stai usando la cassa Come ti permetti? Cioè, nel senso Devo svuotare Togliti immediatamente Va bene, va bene Ok, perfetto Ah, il contenitore Molto bello Adesso duni smetterà i catti Ho avuto dei problemi alla gola Secondo me, ragazzi Scusate No, no, come? Per questa cosa Vai immediatamente a mettere le tue cose di dentro Schifoso Metto le cose più importanti Sì, anche le cose più importanti Io intanto vado ad occuparmi di questo barile che c'è qua Perché duni si deve prendere i barili Va bene, va bene Sono importanti i barili Tra l'altro dobbiamo anche pensare, caro Gabri A fare la cosa, no? Tipo l'ancora Ah, sì, sì Quella là che però è sempre Insomma, avete capito, no? Quella che non si deve mai togliere praticamente Eh, esatto Non quella che dobbiamo sempre fare C'è un'isola là Non è che abbiamo detto molto comunque Mi rendo conto, eh Cioè nel senso Dovevamo essere più chiari Perché se no Eh, esatto, esatto Non è che funziona molto bene Però adesso duni se... E rincitrullito Eh, cos'è stato? No, come? Guardate qua Ci sono degli uccelloni Che ci vuole da sopra È vero Bisogna stare attenti Gabri Perché questi qua possono entrarci Chissà dove In quali posti oscuri In quali posti non oscuri Adesso Vai a prendere quei barili Eh sì, stavo girando la vela Ok, dove? Ah, giusto Abbiamo trovato Un'isola Un'isola Veramente magica Vediamo un attimo le cose che hai messo qui dentro Perché potrebbero essere utili Come potrebbero non essere utili Eh, non so se sono molto utili Vabbè, la plastica è anche utile un pochino, eh Devo dire È utile? Beh, sì, è vero Ma scusa, ma questo Il seme di Ananas cosa? Ma no Ah, posso piantare il seme di Ananas, Gabri? Oh, che bello Meno male Abbiamo trovato qualcosa E infatti anche perché avevo craftato quella roba Però Esatto Però non sapevamo cosa servisse Esattamente Innaffia Ok, l'hai innaffata tu Giusto? Sì, sì, sì Ho innaffiato io Ok, tu sarai l'inaffiatoio, Gabri Tu sarai l'inaffiatoio Va bene, però dobbiamo fare l'ancora Ok, tranquillo che ci pensa Duny Intanto dobbiamo girare un po' più così Perché se no Non andiamo bene Va bene, va bene Allora, l'ancora Come si fa l'ancora? Andiamo da questa parte Eh, io non lo so Non so come si fa Con le pietre se non sbaglio E anche la corda, esatto Dammi le pietre Io intanto crafto Allora, dovrei avere qua Ok Ne ho una, mi sa Sì, però se tu fai E e basta Non va bene, Gabri Eh, no, scusa, scusa Ho questa pietra qui Però non so se basta Ok, va bene Ok, una pietra non basta sicuramente Eh, no, infatti Vai subito a raccogliere altre No, Gabri Se non ce la facciamo però qua non va bene No, eh, lo so C'è anche lo squalo qui vicino Scherzavo, scherzavo Posso farla Posso farla Ah, meno male, meno male Però un'unica ancora Questa qua è molto importante Quindi dobbiamo stare molto attenti Anche perché poi dobbiamo recuperare Un stacco di materiali nuovi Perché stiamo Eh, esatto Non abbiamo quasi niente Stiamo iniziando a scarseggiare Di materiali proprio perché Qualcuno non prende le cose Vabbè, in realtà tu eri l'addetto A prendere il pesce Eh, esatto Però mi si è rotta la canna da pesca La devo rifare Esatto La puoi rifare anche da solo E non è che Sì, 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 lo so Lo so Idiota Ah, ho ottenuto una pietra ora Sì, davvero? Che cosa hai ottenuto di bello Con questa pietra? Ah, bello Allora sai dove puoi mettertela Questa pietra In un posto molto magico Chiamato sedere grosso No, no, no Non ce n'è bisogno Oh, come ti permetti Di contraddire Dunis Allora Dobbiamo mettere l'ancora Mmm, mi interessa Cioè E se no ci scantiamo Ragazzi ma è più Un'avventura così mitica Eh, cioè nel senso È stata troppo mitica Eh, esatto, esatto Ok, allora Adesso partiamo sull'isola Stai indietro Come ti permetti Sì, sì, sì Stai indietro Mi raccomando Tu vai anche sui fondali marini Perché sono utili Eh, va bene Va bene Però prima stai sull'isola Io intanto prendo Il legno ragazzi Perché è importante Prendere il legno Vediamo un attimo Che cosa starà facendo Gabri Guardatelo lì Eh, cosa sto facendo Non è che ci sono molte cose Comunque Da fare, dici Che è successo Da prendere Devo mangiare Che sto morendo di fame Aiuto No, no, no Non morire Aspetta Vabbè, tranquillo Tanto la barbabieto La posso mangiare Va bene, va bene Gabri, devi stare sveglio Però Eh, sì, sì, sì Sono sveglio Non mi pareva molto Come? Affatto no Cioè ti stavi tipo Cos'è? Eri depresso per caso? No, 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 no Ok, basta Stai felice Su, felice Eh, sì, sì Vabbè, insomma Non dico cosa ti devo fare Però No, no, no Non ce n'è bisogno Non ce n'è bisogno Ok, beh A quanto pare Hai capito molto bene Cosa intendevo Cosa Duny Si intendeva bene dire Esatto, esatto Bene dire Perché io sono Un papa Che benedice No, scherzo ovviamente Ragazzi Allora Vabbè Non diciamo cavolate Che poi dopo Qualcuno si offende Come faccio a salire? Vabbè Tanto qua non c'è Eh, oddio Io non lo so Però comunque Si sta facendo molto notte Questa cosa non va bene Affatto Eh no, infatti Andiamo a dormire Che è meglio Veloci nella barca Andiamo, andiamo Infanto devo raccogliere L'ultimo legno Ok, forza nella barca Adesso Andiamo, andiamo, andiamo Dobbiamo immediatamente Dormire Gabri Perché porca pazzona No, infatti C'è quello squalo qui Non si vede niente Mamma mia Infatti Ragazzi tranquilli Che adesso No, tranquilli Che adesso dormiamo Ok Gabri immediatamente Muove Eccomi, eccomi, eccomi Non devo dire questa cosa Eh, no, no Perché mi sa che YouTube Odio un po' queste parole Eh, lo so, lo so Però YouTube Cosa ci vuoi fare? Una parola come tutte le altre Ognuno ha il sedere, no? Cioè nel senso Non è che C'è si può dire Poi sedere è anche un verbo Quindi forse è per quello che si può Dai, però YouTube È un po' noioso a volte Vabbè, insomma Ti voglio bene YouTube Comunque sia Non te la riprendere con me Perché poi magari mi banno Allora No, come? Scherzo Cosa possiamo craftare noi qua? Il tavolo della ricerca L'abbiamo già fatto Allora, cosa Allora, Dunis Cosa ha fatto? Cosa ha preso? Un cavolo Cosa hai preso? Da lì o da niente Ah, sono cresciuti i Anamas Buoni Sì, esatto Ti ha dato altre cose I semi Mi ha dato altri semi Aspetta che li impianto Allora, bravo Piantali E mi raccomando Stai Stai a piantare I semi di Anamas Va bene, va bene Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo Gabri Devi Oh mamma mia Devi andare Nel fondale marino Quando sarà pronto Perché chiaramente Ognuno di noi Ma dai Ma io sto di nuovo Morendo di fame raga Non è possibile però Gabri dammi qualcosa Immediatamente da mangiare Ah, ho il cocco Posso mangiare il cocco? Ah, meno male Meno male Posso mangiare il cocco Che mi dà anche l'acqua Però Però Gabri Sì, sì Ma tu hai pescato Tipo c'hai del pesce Qualcosa Non lo so Sì, ne ho due Ce ne ho uno Ok, perfetto Grazie mille del pesce Di nulla Di nulla Qua era successa una cosa Ah, c'è un pesciolino piccolino Piccolo Vabbè dai Ma dove? Lo mangio Ma l'ananas si può cucinare? No, non si può Direi di no Gabri Non centrati però adesso Sul fare le cose Cioè Sì, sì, sì Va bene Va bene Anzi magari prima di pescare Anzi ci vado io sul fondale marino Tu pesca Va bene Faccio la canna da pesca Esatto Vediamo un attimo Cosa c'è qua sul fondale marino Ragazzi venite insieme a me Che Gabri Resta No, non mi bastano le corde E devi farle Non posso fare la canna da pesca Ah no posso Capito Ecco bene No, non mi bastano comunque Oh madonna mia Ma non è possibile comunque Eh lo so Lo so Controlla la cesta Se hai delle cose Così Dai però Non è possibile Gabri Cosa sta succedendo C'è una cesta Porca puzzolona No Allora ragazzi Qua ci dovrebbe Ah ok Vedete Questo è del metallo Ma come fa Allora come faccio a craftare io il gancio Domanda Eh io non me lo ricordo Non devi ricordarselo idiota No Ragazzi Ma non capisce niente Questo ragazzo No no Io mi deprimo Basta Cioè io veramente Io sono scioccatto No 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 Non ce n'è bisogno Come non ce n'è bisogno Sì che ce n'è bisogno Cioè nel senso Io veramente sono completamente depresso da Gabri Perché No 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 Allora Cosa dobbiamo fare Dobbiamo Allora Controlliamo un attimo il tavolo della ricerca Per fare un gancio Che Dunis sa bene La forma del gancio No perché praticamente Ha una forma tutta particolare Tutta sua Tutta particolareggiata Che Dunis praticamente deve ricercare Qua in mezzo a queste cose Però se funziona Mannaggia A lui Perché praticamente Dovete sapere che ha volto Non sapere che Ma si bagga un attimino Quindi Dunis Capisco Capisco Tu dimmi un po' Cosa stai facendo Gabri Eh niente Ho trovato un varile Ma non c'erano le corde dentro Porca miseria Questa cosa non è Eh Però se le posso craftare io E le corde Non ti devi preoccupare Ah perché si possono fare Oh mio dio Gabri Io non lo sapevo Gabri se tu vai sul Ah si eccolo Eh Ah le foglie Eh le foglie A me sono pieno di foglie Eh lo so E sono la prima cosa Che ci sono i raft Se non hai le foglie Non sei nessuno praticamente È un po' come il legno Su minecraft Ma non dobbiamo paragonarlo A minecraft Allora Mmm Avevo un problema Gabri Non ci sono abbastanza materiali Eh esatto Ah Lui si era mutato Scusate ragazzi se sentite A volte che è Però lui si muta Perché probabilmente Ha delle difficoltà Non differenti In questo momento E purtroppo Non ci si può fare niente Cioè nel senso Io potrei Anche arrabbiarmi in questo momento Ma non servire No 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 È una colpa sua Anche se mi sto Leggermente Nervosendo Ma non è colpa sua Lo capisco Quindi Capitelo anche voi No perché È leggermente un po' Più stupido Delle altre volte Ma che cosa ci volete fare Questa parte Su quest'isola qua C'è Ma qua si stanno alzando Le onde Eh mi sa che Forse sta arrivando La tempesta Ma è prima No come Esatto La tempesta marittima Dunis Dunis Vedo un'isola lontana Che non è tanto lontana Oddio No 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 Gabri Allora dobbiamo craftare Immediatamente le corde Perché non ce le ho Cos'è che manca poi dopo Per fare Eh io ho due corde Però basta La pietra La pietra La pietra Aspetta che sto morendo Sto morendo Tanta pietra Tanta pietra No no la pietra Come stai Ma che c***o Eh Gabri Non me ne frega Niente stai morendo Mi devi dare la pietra Eh io non so Se ne ho qua dentro Forse No ho preso Eh non ho la pietra io Ciotte mannoggio Io ti giuro Allora non possiamo fare l'ancora Ecco Eh Allora quindi tu Gabri Potresti per favore Fare una cosa di questo tipo Ma perché l'hai ripresa Madonna Io lo ammazzo Lo faccio fuori Lo faccio arrosto Come questi pesci arrosto Stop Dicevo allora ragazzi Quindi Mi sta facendo Eccomi eccomi Eh Devi pure dire Eccoti vero Ti lascia in testa Allora Praticamente Ma dove stiamo andando Ma ci stiamo allontanando Dall'isola Eh mi sa di no Oppure Eh mi sa di sì Anzi Mi sa di sì invece Allora Eh Allora facciamo una cosa Dobbiamo riprendere la cosa E fare così Scusateci ragazzi No Non morire È completamente un disastro Però tranquilli Che adesso Doniz riprende Allora Praticamente Gabri cosa devi fare Tu adesso devi prendere Devo andare a prendere la pietra La pietra Oppure Vado 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 Oppure magari stai sulla zattera E vado io sulla Sull'isola Vediamo Esatto Meglio così Forse Sì ma comunque questa fame Non è possibile Però Cioè basta Ha rotto proprio Eh lo so Lo so Madonna Che rottura Ragazzi Una roba Veramente Cioè una Una rottura di scatole Basta Io dico No alla fame Su the raft Su raft Sulla zattera Vabbè Insomma Cioè nel senso Non è possibile Su raft Esatto Su raft Cioè Basta No Cioè scusatemi È sulla zatterona Ma che fame Ma che fame ha Sto cosa Che deve mangiare Sempre È possibile Cioè scusami Placca un attimo La tua fame Con la forza del pensiero Ma poi non sta camminando Ma come Addirittura Però ho il mango Non l'ho guardato Però ho il mango Posso Posso mangiarlo assolutamente Questo mango Ah meno male È molto nutriente Ah comunque ho trovato Due barili Ok molto bravo Trova i barili Trova le cose Perché così poi Possiamo fare Come che si dice La cosa La zattera L'ancora Fra l'ancora L'ancora Quella là Perché basta Cioè questa Questa ancora qua È il disastro Totale Infatti non serve a niente Cioè Non è che non serve a niente Serve però Certo che serve Però insomma Ho trovato una pietra Ok molto bravo Io lo sto raccogliendo Come al solito gli altri Comunque sono uno Di quei youtuber Noiosi Che prende le pietre Ah ho trovato anche i meloni Gabri Ah bene Ma si possono impiantare Boh Ma forse Ma sai che non so In che tipo di cosa Si può impiantare Eh esatto Ad ogni modo Sicuramente servirà l'altra Può darsi Cioè No Speriamo Non penso Sai perché Penso di no Ho il mio sospetto Ma non so Vedremo un attimo Ah meno male Vediamo se i meloni Insomma se le angure Si possono Si possono piantare Oppure no ragazzi Vediamo un attimo Esatto Però su quest'isola Non c'è un beato ceppo di niente Se posso dire la mia Sì infatti Ma poi è brutta Ma sapete cos'è il zero più totale È il zero assoluto Cioè praticamente Avete presente il zero assoluto Dell'universo Che praticamente sono dei gradi No Praticamente Cioè non c'è niente C'è temperatura C'è altro che congelamento Altro che i gradi C'è proprio zero Meno C'è proprio zero Niente Zero Zero Ma proprio una roba Proprio 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 Una roba che proprio Non esiste niente C'è proprio Proprio che se tu ci vai lì Altro che Ci congeli in due Cioè proprio Ma come? All'istante proprio Io ho appena visto una cosa Che però per fortuna Perché mi è arrivata una notifica Da Steam Che era meglio Sì una persona ha avviato un gioco Che è un po' cringe Però vabbè Adesso Scusa mi stai rubando un'acqua No Io ti ucciso Allora scusa ma poi tu puoi dire Altre cose oltre a No e a Gabri Eh scusa 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 Non volevo Non volevo E oltre scusa per favore Puoi articolare i discorsi Va bene va bene va bene Studi a scuola che non sai manco parlare Poi dopo si lamenta ai professori Ma poi dopo Cosa? Eh cosa Guardate Questo lazzarone che non fa mai niente Alla mattina e alla sera Poi dopo si aspetta Che qualcuno gli dia un bel voto Cosa? Allora adesso tu sudi E parli Va bene va bene Questo è perché non legge abbastanza Devi leggere Devi parlare Nella tua vita Che non hai nessun amico Non parli mai con nessuno Cosa? Allora adesso ho bevuto troppo Ma come al solito Mi confondo fra cibo e acqua Che non è la stessa cosa Devo mangiare Eh queste cose Adesso vediamo se il melone si può impiantare Oppure no ragazzi Uh vediamo l'anguria Eh no Non mi sa di no Mi sa di no Però si può mangiare Molto buono Va bene va bene quello Però allora Questo melone ha una durata Tipo vabbè insomma è un po' strano Seme di bianco Non so cosa serve Il seme di bianco È quello che avevamo impiantato L'altra volta Il re del fiore Ah beh insomma Molto Inutile Però ragazzi Eh lo so C'è un'altra isola No beh Io direi che ormai Purtroppo Quest'isola la vedremo Nel prossimo episodio ragazzi Tu punta la vela Bene però Va bene va bene Ma come una vela sa puntare Ragazzi tutto qua Ma come E quindi Ma porca miseria Lasciate like Iscrivetevi al canale Mangiate il pesce Che è buono Fa bene Se non avete Non so Vabbè si scherza Chiaramente qualsiasi cosa Detta Non prendete seriamente Perché è Solutamente A puro scopo intrattenitivo Quindi se qualcuno Si fa male col pesce Non è Colpa di nessuno Nemmeno nostra E nemmeno mia Quindi ragazzi Non mangiate Vabbè insomma Niente Ma scusa Gabri si è addormentato Completamente No 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 Ci sono Ci sono Cioè tu sei Ma poi scusa Ma io sto stavo sentendo Una cosa in sottofondo Ma come Gabri Non parlare più Guarda È meglio così Va bene Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi